Diciamo che più che la sigla ce lo racconta la nostra Miriam, ciao buongiorno Ciao buongiorno Laura, buongiorno Sandro, eccomi Allora tanta gioia, tanta proprio che riempio il cuore da voler condividere questo momento che è accaduto credo oggi Sì sì questa mattina Questa mattina, ti prego racconta tu non voglio anticipare nulla Va bene, allora questa mattina alle 6.30 mi sono svegliata per la causa di un richiamo fisiologico Sì E nulla succede che prendo il cellulare come tutti gli italiani, apro l'app del mio supermercato Sì E gioia infinita, uno slot verde Sì perfetto Slot verde vuol dire possibilità di andare a mettere lì la prenotazione per la spesa Esatto la spesa a domicilio Gioia infinita Quindi allora, calma e sangue frate perché io non l'ho mai fatto, non so te Sandro se l'hai fatto con l'app No, la fammi a moglie Praticamente sì Spiegaci Allora si scarica l'app del supermercato Ok Esatto Dopodiché c'è la sezione carrello con tutte le possibilità degli slot di prenotazione Ok Se il pallino è grigio non c'è possibilità di prenotazione Se è rosso è full, se è verde è libero Ok Ho cliccato il pallino verde, mi è uscita la prenotazione Se lo faccia Miriam, la spesa in effetti c'è quello che poi vuoi che ti portino a casa, l'avevi già selezionato prima? No, l'ho prenotata e poi sono andata a inserire alcuni articoli nel carrello in modo tale da bloccare la prenotazione Che meraviglia E quando ti arriva però? Sa sabato prossimo Ah, tu l'hai spesa Una settimana, quindi anche un tempo diciamo tutto sommato decente Anche perché adesso con le app ti danno la possibilità in modo particolare questo supermercato Di fare un ordine ogni sette giorni per dare la possibilità di fare la spesa a tante altre persone Insomma Beh, sì Però è corretto È una bella gioia dai Peraltro io ce lo dico, da donna questa cosa di fare diciamo shopping online alla fine con la spesa A me non dispiace, cioè l'idea non mi dispiace perché quando io lo faccio, non so con l'abbigliamento o altre cose Mi diverte un sacco A te diverte? Sì Miriam Sì, sì, sì Poi vado a leggere gli ingredienti, i prodotti, le caratteristiche E tutto questo lo fai sul water? No, 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 lo faccio poi seduto tranquillamente mentre non c'è il caffè Vogliamo sapere La cosa utenziale è prendere lo slot Esatto, prendere lo slot Miriam, come festeggerai oggi lo slot verde? Farei una festa in casa tua? Così La festeggerò con le amiche del condominio da un bacone all'altro Da un bacone all'altro, bellissimo Allora abbiamo la canzone giusta, guarda, la nuova di Annalisa, House Party